Con circa 2000 membri in oltre 70 paesi in tutto il mondo, in soli 10 anni la rete Sudstern è cresciuta esponenzialmente, diventando un vero e proprio modello a livello europeo. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Associazione degli Alto Attesini all'estero, Armin Ilpold, in occasione della festa dei 10 anni di attività che si è svolta all'hotel Laurin a Bolzano. Sudstern compie oggi 10 anni e noi raggruppiamo gli Alto Attesini all'estero e il nostro scopo è proprio quello di promuovere la connessione e il contatto, diciamo, uno tra gli Alto Attesini all'estero, ma anche tra gli Alto Attesini all'estero e le imprese e le istituzioni in Alto Adige. Intelligente, di successo e assolutamente da imitare. Così è stata descritta Sudstern dalla rivista tedesca di economia Brand Heinz. Da un curioso sondaggio che domandava che cosa manca di più dell'Alto Adige, la maggioranza dei membri di Sudstern ha risposto la famiglia per il 61,4% e la natura per il 55%. In caso di ritorno in Alto Adige, la maggior parte rimpiangerebbe le opportunità di carriera, 68,5% e l'internazionalità, 65,3%. Ogni Alto Attesino all'estero parla molto positivamente dell'Alto Adige e quindi sicuramente ha anche un effetto pubblicitario ed è anche molto importante per l'Alto Adige.